Attenzione, in questo video vedrete immagini totalmente casuali, tratti da una classica giornata al Mottolino Bikepark Ti dico solo una cosa Igo, al Boreto? Ha parccato Vabbè, quello si sapeva perché non è già nella prima ripresa del video quindi Ti dico solo dove è andato oggi al Boreto al posto di venire a girare dimmi 3, 2, 1, Parco delle Cornelle Quindi ti diciò a quanto fa, vogliate? Ossè, a quanto fa, l'accordo? No, amici so Non ha ancora girato in Bikepark senza fare gli episodi di Red Esatto Per farlo girare, adesso, se state guardando questo video Andate sul profilo di Instagram di Al Boreto e gli scrivete Al Boreto vai a girare con Toto No, no, ma io non ho finito, non volevo dire solo questo In questo video vi mostrerò come spogliare un Ivo C'è una particolarità in questo video Perché siamo su, tipo, tutti i rider di dirt Tra virgolette tutti Tutti i rider di dirt in Italia E tutti abbiamo provato le biscella dirt Ovviamente di H perché se si fa il Mottolino non si può Non sono già in DH Però ragazzi, domani, session, tutti con le dirt in area jump Non lo so Non lo so, non dico Quindi mi raccomando, venite su domani Domani venite su Eh, Jessica, per favore Abbiamo visto un video con la Bea che andava in bici Dissa la Bea Eh, io sono qui però, la Bea Boh, io non la vedo, la Bea La Jessica t'ha dissato Mi ha dissato T'ha dissato, rispondi al dissing Ah, così si risponde, ragazzi No, non so cosa dire, Toi Rispondi, battuta, cioè devo Tu devi capire che Ivo è il turista in qualsiasi posto va Al mare, montagna, città, collina, pianura Turista Prende quello che compra il prosciutto La forma di prosciutto da mangiare d'estate al park Lui è quello Ivo il pellegrino Pellegrivo Dai, Chicco È Ivo Chicco Lo chiamavano Chicivo Attenzione, dietro la Jessica Far pressione sulla Jessica Fagli pressione, Ivo Dai, Chicco Eh, proverò un 3-6 Non so se verrà, eh Mi segui? Sì Ah, sti cazzi, proprio mortali Sì Ragazzi, ma si può che io Primi giri devo subito Triccare con dietro uno Eh, là, che vento Eh, addirittura Addirittura alla prima Non ci credo Adesso mi segui Vedi se hai riuscito a salmi dietro Contiamo Uno Due Dai Due secondi e mezzo, tre Dai, ci sto la minchia Bravo Chi è che mi ha chiamato? Qui dietro in fondo Ciao Anche io che taglio, eh Non so se provare 3 dal drop Da una vita che non lo faccio con la DH Stavo quasi sbagliando il 3 Dal drop comunque Ho fatto 3 dal drop Anni che non lo facevo Ho un po' sbagliato Essere sincero Perché non ho lato benissimo La ruota dietro mi ha toccato Nella fine del drop Però sono riuscito a salvarlo Attenzione Prova a sorpasso Raga ho beccato Angelo Pellegrini Che va in moto Taglia, taglia, taglia Ti ero sopra Oh ma dove sono passato dell'erba Per passare tutto indietro Comunque raga Lui è Angelo Pellegrini Fa super cross Pellegrini Trovati per caso Beccati per caso Lui Andy Andy Winkler Che erano Belli vicini Putano erano vicini Ho tolto un po' i piedi Però poi ero in aria Sopra di lui Ho detto Ma vado 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 Vadi Ragazzi lui È l'uomo A parte che va fortissimo E non me l'aspettavo Però lui è l'uomo Che fa le wippate E le scrabate Della vita Oh la madonna Cosa sta andando forte Oh Figa Bello quello Oh voglio delle scrabate mortali Qua eh io Guardalo lì Oh no Scrabate della morte Eccolo lì Lui È quello Che era quasi Sfigurato da un ramo Alza E ho preso il cosissimo No Occhio Qua è Inca Avete presente Inca In lingua Quechua La parola Inca Significa capo Ok l'ho lasciato andare un filo avanti Sennò qua A parte che non si vede niente Free ride Dai 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 first time First time Dai Penny Spiccicati Yeah Yeah Penny Vado a filmarvi un trenino sui condomini Mi fate un treno ma appiccicati Uno sopra l'altro Raga arrivano incazzati Io seguo lei Come l'ha detto Ricky L'ho spaccato puoi seguire la mia amica Sì sì Come hai detto che ti chiami? Margherita Guarda lì come va Grande Quanti ne hai detto? 17 17 E ti fa il culo Toto Pensa a te Oh no Occhio occhio Donne in montagna Donne in montagna Ma lei c'ha due coglioni così Ma lasciagli la sua femminilità Ivo Però per favore digli che è un mascherista di merda Chi va davanti Vai Fede Assezione Fede ha fucile è partito ragazzi La conosce il ragazzo la conosce La conosce il ragazzo è partito È matto la sta facendo a 400 Fede Ciao Kiko Allora siamo già il giorno dopo in realtà ragazzi Ieri abbiamo finito di girare Eravamo stanchi quindi non siamo venuti in era jump Però oggi siamo saliti con le dorte C'è Ivo il signor Ecco il signor panino Là c'è già Fede Borromini che è pronto a saltare Ovviamente come al solito c'è vento E l'ultima volta quando sono venuto fino a per Red Bull Ero con l'integrale che mi dava un po' fastidio Invece stavolta sono venuto con la scodellina Perché Ivo nei suoi video mi ha ispirato Ho visto che ha fatto un po' di tricchettini nell'altra volta E ho detto no Questa volta salgo di Vigno Vado con la dorte Caschettino da dorte Così almeno vedo bene i tricchi in aria Ovviamente vi ricordo sempre che trovate il link Di questo casco e anche l'integrale che uso in descrizione Quindi guardate la descrizione se siete interessati ai caschi Ciao ragazzi Tra poco si prevede una super session Probabilmente ci sarà un po' di vento Ma i ragazzi sono caldi Quindi siete invitati Ok allora Adesso qualche sentimento di riscaldamento E poi si inizia subito a sendar tutto perché Danno temporalino dopo eh raga Alla prossima raccomando, sia a destra che a sinistra ragazzi, 7 corpi, 7 corpi, mi iniziano a piacere Eccolo lì, e anche il grigio inizia del capo Eccolo lì, e anche il grigio inizia del capo Eccolo lì, e anche il grigio inizia del capo Allora, direi che abbiamo girato, adesso il vento si sta alzando sempre di più, quindi con le due orte inizia a essere sempre un po' più difficoltoso. Problema, io ogni volta vengo con il mottonino perché dico voglio cliccare con le strutture là, però purtroppo se clicchiamo adesso su quello ci cappottiamo così perché c'è troppo vento. Spero di riuscire prossimamente a venire a fare un'altra session con la Dior qua. Io spero che anche questo video vi sia piaciuto, anche se veniamo sempre a girare alla fine al mottonino, però ragazzi è il nostro home place per l'estate, per girare in ghiacca. Ringraziamo anche signorina Ces, bella bella vita cesana e noi ci vediamo in un prossimo video. No, non le ho tutte giuste, infatti.